Io non mi dimetto, avete tutti i numeri per far sciogliere il Consiglio Comunale. Come annunciato a 105 Tg, il sindaco di Teggiano, nell'assemblea pubblica di domenica, ha ribadito che non lascerà la guida della città, pur essendo in minoranza. Continuerò ad amministrare, ha detto, fino a quando i consiglieri dissidenti e quelli della minoranza non decideranno di dimettersi e far cadere il Consiglio Comunale. Rocco Cimino ha cercato poi di trovare una motivazione che ha portato alla profonda spaccatura con i tre consiglieri di maggioranza, Sonia Marino, Lisa Babbino e Mario Baldotrezza. Il primo cittadino ancora una volta ha precisato che ancora oggi non ha capito cosa realmente è successo. Non mi dimetto, ha poi aggiunto, per evitare il commissariamento. Se gli altri vogliono che questo accada, hanno i numeri per farlo. Però, se è questo il loro disegno politico, lo facciano in fretta. Chiara dunque la posizione della risicata maggioranza Cimino, un po' meno quella dei loro oppositori. Se hanno deciso che l'amministrazione in carica deve tornare a casa e se il loro obiettivo è anche quello di rientrare nella tornata elettorale per le amministrative di primavera, devono accelerare i passi. In città si attende una loro mossa. Le armi a loro disposizione per lo scioglimento anticipato del Consiglio Comunale sono ben note di missioni contemporanee di tutti e sette i consiglieri oppure votare tutti e sette contro il bilancio che dovrebbe approdare in Consiglio nel prossimo mese di marzo. Allora però potrebbe essere troppo tardi per sperare in un ritorno alle urne in primavera. Quella delle dimissioni in massa sembra a questo punto l'unica strada da perseguire. Ma è su questo che dissidenti e opposizione stanno lavorando? Da entrambe le parti non filtra nessuna notizia. Forse alla responsabilità di un commissariamento nessuno si sente ancora pronto ad assumerla.